Dopo le dimissioni ieri del vice sindaco Gianni Carbini, a Palazzo Ducale parla solo l'opposizione. Le continue eliti all'interno della maggioranza di centro-sinistra ci fanno capire solo una cosa, che sarebbe opportuno che si dimettesse l'intera giunta e si desse la parola ai cittadini, perché una tale situazione di stallo che ormai dura da anni non si era mai vista nella nostra città. Lo afferma Giancarlo Carta, consigliere comunale di opposizione, che aggiunge Sassari ha bisogno, in un momento così delicato dell'economia, di un governo forte, che lavori e prenda decisioni importanti, non di beghefini a se stesse che stanno mortificando ancora di più il nostro comune. Critiche anche da sinistra, sanna spieghi o se ne vada, la sua esperienza è un disastro politico-amministrativo personale, ma anche una sconfitta netta nel profilo di governo del Partito Democratico. È il giudizio della Federazione Provinciale del ricostituito Partito Comunista Italiano. La segretaria Patrizia Marongio in una nota evidenzia che il consenso del primo cittadino della sua giunta e della maggioranza PD è ormai ai minimi termini. Nessun commento finora, invece, da parte del sindaco, né da assessori e consiglieri di maggioranza. La riunione straordinaria di giunta, convocata poche ore dopo l'ufficializzazione del cramoloso gesto di Carbini, non ha portato nessuna novità. Ma qualcosa potrebbe accadere già domani. Si parla di imminenti dimissioni di esponenti di giunta. Per il momento sono solo voci, impossibili da verificare. Ma sono la spia di un clima ancora atteso, con il centro-sinistra e il PD in particolare, che si potrebbe adesso trovare di fronte a un bivio. Continuare a sosterere il primo cittadino oppure valutare il ritorno alle urne. Una scelta che risulterebbe condizionata, in entrambi i casi, da una valutazione di fondo. Il rischio concreto di perdere il governo della città. La finestra elettorale è ancora aperta, nel caso si voterebbe tra fine maggio e primi di giugno. Le valutazioni sulla situazione politica a Palazzo Ducale trovano infatti un intreccio inevitabile con la fase congressuale nazionale e soprattutto regionale. Intanto il Consiglio Comunale è convocato per giovedì pomeriggio, con ad ordine del giorno alcune pratiche e interrogazioni.